Ed è fuori in piena notte L'angolo famosissimo che è completamente a buio, noi stiamo illuminando con lampade alogene, ma a passarci a piedi c'è da vedersi paura, incomincia la luce lì e le lampade su una, ora vedremo anche la seconda, una ancora spenta e questo è quello che c'è dietro di noi con le nostre piccole luci, se noi spediamo queste luci penso che non vedrete più niente o vedrete molto poco, non vedrete più niente o vedrete molto poco, forse non sentivate le mie parole, eccoci qua dal Largo San Francesco per andare in via San Giovanni, luce, ecco bravi ragazzi, i ragazzi hanno vedito, hanno dato la luce e usciamo da questo labirinto buio alle nostre spalle per arrivare poi qua, dove in effetti c'è l'illuminazione per aiutare in casa San Giovanni, grazie e buona sera. grazie 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 grazie